Vuoi dare una spinta alla tua carriera? Ma pensi che alle tue competenze manchi qualcosa? Non lasciarti scoraggiare da corsi lunghissimi ed esami difficili. Scegli A-Sapiens, tantissimi corsi online su tematiche sempre aggiornate e tenuti da esperti del settore. Potrai seguirli da casa tua, scegliendo gli orari migliori per te, utilizzando la modalità individuale o di gruppo, per seguire i corsi con i tuoi amici o colleghi, senza stress e senza perdite inutili di tempo. Ce l'hai fatta! Hai superato gli esami online ed ora hai i tuoi certificati. Abbiamo più del 90% di successi. Non male, eh? Vuoi saperne di più su corsi, esami e agevolazioni? Prova gratuitamente la nostra piattaforma per 7 giorni. Siamo pronti a rispondere a tutte le tue domande. A-Sapiens.it È arrivato il momento di essere insostituibile.